L'improvvisazione all'Accademia Dimitri viene insegnato tutti i tre anni, e qui vediamo un lavoro del primo anno, Bachelor, dove il focus è soprattutto sull'atto della creazione e nella competenza di creare dal niente, tra virgolette niente, e di arrivare da un impulso, da un'immagine, da una piccola scena, un monologo, in diversi linguaggi teatrali. All'inizio lavoriamo soprattutto con il suono e il movimento astratto, in quale l'astrazione è quello che vediamo, che vede il pubblico, ma per quello che sta facendo l'esercizio del lavoro è molto concreto, c'è sempre un collegamento a un contenuto, viene lavorato su qualcosa molto preciso, che deve essere ripetibile, che il studente sa esattamente cosa sta facendo. Poi l'improvvisazione nel primo anno va verso anche una creazione di piccole scenette dove è importante la coerenza, però sempre creano qualcosa da un inizio che non è un testo al momento, che viene proprio preso da quello che esiste in questo momento, la creazione da qualcosa e anche imparare la coscienza e la fiducia che sempre arriva un materiale, perché la creazione è un accettare del materiale e da questa accettazione costruire qualcosa teatrale.